Hai notizie su internet, a internet? Sì, già non ho scopato una foto di Briatore o mi è venuto in mente di lanciare un altro sondaggio? No, i sondaggi li lancio io. Tu non devi lanciare i sondaggi, gli avatar lanciano i sondaggi. È prerogativa degli avatar. Guardo la pelle d'oca, ma mi faccio un po' di coraggio e lo lancio lo stesso. Sì, va bene. Prego la legge di metterle sul monitor la foto di Briatore e la Gregoracci. Allora, il sondaggio è Chi dei due in realtà è incinta? È incinta e Briatore. Sono incinta tutte e due, è incinta Elisabetta e Gregoracci, ma lui si è appena mangiato otta anguria. Ma ti sembra un sondaggio questo? Mi raccomando, rispondete numerosi. Una vipera sei. Colleghiamoci con Massimiliano.